Tre itinerari con un unico obiettivo, rimettere ordine le agende ospedaliere per ridurre i tempi di attesa della ASL e rientrare nelle previsioni dei codici di priorità, portando a 72 ore l'attesa per una visita urgente e a 180 giorni le programmabili, destinate ad attestarsi ai 120 grazie al piano nazionale di governo. Va spedito il piano avviato a fine novembre per la verifica e l'aggiornamento dei piani aziendali, con cui la Direzione Generale della ASL, sotto impulso del Dipartimento delle Politiche e della Salute della Regione Puglia, ha riunito per la terza volta la cabina di regia, costituita per seguire da vicino l'evolversi del progetto e comprendere le correzioni adottate. Il percorso avviato, come stato illustrato alle organizzazioni sindacali, dal Direttore Generale Antonio Sanguedolce e da Carmine Parlati, responsabile unico delle liste d'attesa, ha prodotto già risultati positivi, come un distinguo netto tra prestazioni di controllo e primo accesso, evitando così di ingolfare le liste, oppure eliminando richieste ripetute con prestazioni multiple. Tra i correttivi attuati o in fase di attuazione, inoltre, il piano prevede di adottare una maggiore correttezza prescrittiva e una stretta collaborazione sia con i medici di famiglia sia con gli specialisti, attraverso una campagna educazionale rivolta agli utenti e a breve anche l'utilizzo di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali dedicati a pazienti bisognosi di pacchetti di prestazioni, di fatto sganciandoli dal circuito di prenotazione CUP. Nell'immediato sarà fondamentale revisionare le agende con l'informatizzazione capillare di ospedali e ambulatori distrettuali e attraverso il recollo automatico con personale dedicato. Proprio in questo senso la ASL sta procedendo all'assunzione di nuovi addetti e ha previsto il reimpiego dei fondi provenienti dall'attività in libera professione intramuraria nell'attività aggiuntiva degli specialisti per fornire ulteriori visite e diagnostica nei settori più delicati. Grazie. Grazie.